La Fondazione Terzo Pilastro Internazionale riporta a Roma Corrado Cagli, il grande artista che ha attraversato tutta la storia del Novecento viene celebrato con una mostra antologica che sarà Palazzo Cipolla fino al 6 gennaio. L'ultima mostra nella capitale dedicata a Cagli risaliva 20 anni fa, lì erano esposti solo i suoi lavori degli anni della scuola romana, mentre il professore Emanuele Emanuele, presidente della Fondazione, ha voluto un'esposizione in cui venisse offerta ai visitatori la possibilità di ripercorrere tutta la sua opera dagli anni 30 agli anni 70. Io credo che nella tradizione che io ho instaurato in questo spazio espositivo di portare artisti non conosciuti più dal nostro paese o comunque nella nostra città, non vorrei parlare soltanto di quelli americani, quelli francesi, quelli spagnoli che ho portato nel corso degli anni, mi pareva doveroso farlo nei confronti di un grande artista italiano che è stato praticamente dimenticato e un artista il quale, voglio ricordarlo, ha il pregio di avere creato o contribuito a creare la scuola romana. Cagli, nel suo percorso umano e artistico, che lo ha portato anche a Parigi e New York, dove si rifugiò dopo la proclamazione delle leggi razziali, ha sperimentato tecniche, linguaggi, forme espressive sempre diverse. Attraverso le 200 opere della mostra Corrado Cagli, Folgorazioni e Mutazioni, curata da Bruno Corà, si possono ripercorrere tutti questi passaggi. Un uomo che aveva delle visioni, conseguentemente mi è sembrato giusto che questo nostro spazio espositivo, che oramai da 24 anni a questa parte, o vantare il pregio in questo paese dove l'arte non viene considerata lo strumento primo per far risorgere lo stesso paese, che è in crisi oramai da più di 40 anni, piaccia o non piaccia dirlo. Ecco, l'arte è l'unico strumento che potrebbe consentire di farlo. Mi pareva che le scelte che ho fatto fino ad oggi non sono state sbagliate e sono convinto che anche questa sarà tra quelle positive.